Alessandro, innanzitutto grazie per aver accettato il nostro invito. Intanto partiamo con questa domanda. Ti è bastato veramente poco per far impazzire e innamorare di te i tifosi del Catania? Il mio arrivo è stato molto positivo per me perché ho trovato comunque la gente che ha apprezzato molto il mio modo di giocare senza aver mai giocato a Catania, soltanto d'avversario. Sono molto contento di essere qui e non vedo l'ora di poter giocare a Massimino anche perché sono tre mesi che mi alleno e vorrei cominciare a giocare. Senti, l'effetto Marotta si è fatto vedere non solo tra i tifosi, nel quale tu sei già entrato nei loro cuori, ma anche all'interno dello spogliatorio della squadra. La settimana scorsa abbiamo avuto come ospite Capitano Viaggianti, il quale ha detto che è contentissimo di averti in squadra perché hai portato una ventata anche di entusiasmo e di allegria. Diciamo che mi aiuta molto il fatto che sono napoletano. Noi napoletani siamo famosi nel mondo per il nostro carattere, per il modo di essere socievoli e di cercare di far gruppo. Io sono sempre stato così, ho molti amici e niente, diciamo che nello spogliatorio si sente la mia presenza. Senti, hai parlato di Napoli, la tua città. Tu hai detto ai nostri microfoni che Catania ti ricorda moltissimo Napoli. Ecco, io vorrei farti vedere una cosa, se mi permetti, che è questa, Marotta e Napoli. Che rapporto hai con la tua città natale? Io sono innamorato della mia città, mi manca tantissimo, ormai sono anni che sto lontano, non dico che mi sono abituato, però purtroppo quasi. Le mie origini sono sempre lì, la mia famiglia, mia sorella, i miei amici e quindi ogni volta che posso torno a casa. Anche se adesso è diventato un pochino più difficile perché avendo tre figli, spostarsi e tornare a casa è diventato più difficile. Però ogni volta che ci sono le feste di Natale, di Pasqua e quando arriva l'estate, torno a casa. Senti, io vedo te e Maradona. Quella è casa mia, io praticamente abito 100 metri dietro a questo palazzo, che poi c'è una curiosità, sulla faccia di Diego c'è una finestra e di notte deve essere chiusa perché si deve vedere la sua faccia. E invece di giorno non si vede la faccia perché la signora apre, giustamente le fa passare un po' d'aria, apre la finestra. Ed è stato rifatto da poco, prima era molto vecchio, adesso l'hanno restaurato. Tu sai anche che c'è un grande gemellaggio fra la tifoseria del Catania e del Napoli, c'è un grande amore. Napoli, Maradona, ma Napoli per te ha anche tanti amici importanti qui, ti vediamo con un gruppo, con tua moglie ma anche con un gruppo di amici. Cos'è l'amicizia per Alessandro Marotta? Una cosa molto importante, una cosa in cui io credo tanto. Essere onesti, sacrificare qualcosa per un amico credo che sia una cosa fondamentale, una cosa che mi è stata insegnata dalla mia famiglia. Ovviamente non esistono molti amici perché purtroppo questa è la cruda verità, però quei pochi che ci sono me li tengo stretti perché so che in ogni momento loro risponderanno sempre presenti. Si dice che gli amici si contano sulla dita di una mano e io allora mi domando, Curiale, era durante il ritireseo il tuo compagno di stanza e il tuo compagno di reparto. Ci sveli qualche segreto di Davis? Davis mi piace, mi piace perché non è uno che parla tanto, è un ragazzo molto riservato e quelle sono le persone migliori. Perché conoscendoli meglio scopri delle qualità che magari non riescono a mostrare, però quando acquisiscono la fiducia del compagno si aprono e diventano molto piacevoli da frequentare. Io e Davis abbiamo un buon rapporto, ogni volta che quando possiamo usciamo insieme con la famiglia, con i bambini e averlo come compagno di squadra mi fa molto piacere. Senti, io intanto leggo, scusa se mi ero distratto perché leggo le prime domande che arrivano da parte dei tifosi rossazzurri. Davide Villaggio ricorda quel 10 giugno dove hai dato una speciale tifoseria a Rossa Azzurra, però dice anche sono convinto e sicuro che ci regalerai tantissime gioie. Matteo Pino ti dice ciao da Diablo con due cuori, essendo il mio giocatore preferito ti faccio questa domanda. Secondo te quanti gol farai? A saperlo, lo dicevi prima quando prima hai il contratto, così mettei un bonus a prestazione. Ragazzi, io proverò sicuramente a fare più gol possibili, anche perché più ne riuscirò a fare insieme sicuramente al mio amico Davis e più daremo una mano da Rò e daremo una mano al Catania per centrare l'obiettivo che è sopra ogni cosa. È sopra i gol di Marotta, è sopra i gol di Curiale. Il nostro obiettivo sta al primo posto e noi tutti insieme lavoriamo per raggiungerlo. Alessandro, io vorrevo chiederti, visto la qualità della Rosa a disposizione di Mister Sottile, le partite infrattimanali tra di voi, quindi di alto livello, come se fossero quasi una partita di campionato, perché comunque il livello di tutti i giocatori è altissimo. Questo vi ha aiutato in attesa dell'inizio del campionato anche per tenere alta la tensione, alta la qualità del vostro ritmo partita? Assolutamente, bella domanda. La sana competizione è la cosa migliore che ci può esistere. Avere una Rosa così competitiva è sicuramente un aiuto alla squadra, perché confrontarsi con giocatori dove sono stati e sarebbero titolari nella maggior parte di B e di C soprattutto è sicuramente stimolante e ti fa impegnare il doppio in allenamento perché nessuno vuole sfigurare e tutti vogliono conquistarsi il posto. Senti, Ale, io ho un'altra domanda a proposito. Normalmente la squadra deve avere come concetto quello della famiglia, lo stare insieme con Patti, soprattutto quando si vuole raggiungere un obiettivo. Ti chiedo, cos'è la famiglia per Alessandro Marotta? Tutto, ma non solo per me, io credo per tutti. La mia famiglia, per colpa mia e del mio lavoro, fa tantissimi sacrifici. Io ho il primo figlio che è nato a Spoleto, la seconda che è nata a Bari e l'ultimo che è nata a Benevento. Questo ti fa capire quanti sacrifici sono stati fatti da mia moglie e dai miei figli che per colpa del mio lavoro cambiano ogni anno scuola, città, abitudini, amici e quindi io li ringrazierò per sempre. Se loro stanno bene, sicuramente sto bene anch'io e riesco meglio in quello che faccio. Io nel frattempo ti faccio vedere questa, tu con tua sorella Rita e tuo fratello Giancarlo, dico giusto, non ricordo male? Sì, Giancarlo. Giancarlo. Che sono per te altre due persone speciali se non vado errato. Sì, certo. E oltre a loro guarda cosa c'è dietro perché abbiamo scoperto veramente un Alessandro Marotta diverso qui con questa famiglia bellissima. Grazie. Tra l'altro Lorenzo, se non ricordo male, il più grande, Maddalena e il più piccolo è Antonio Catalta, a due anni, è nato a dicembre dello... 24 dicembre. Ah, quindi proprio un bellissimo regalo di Natale. Un bellissimo regalo di Natale. E poi abbiamo ancora un'altra foto che è questa, ma questa è la più bella che ci hanno mandato. Questo è il giorno dopo il mio matrimonio. Ah, di questo? Allora, visto che stai parlando di questo, visto che stai parlando del matrimonio, a questo punto ti dobbiamo far vedere per forza una cosa, Ale, perché noi abbiamo avuto un complice, abbiamo fatto un po' come... Mia moglie. Come hai fatto a nominare. Abbiamo avuto un complice. Solo lei può essere. E appunto noi vorremmo farti vedere una cosa di te e tua moglie, perché parlando con tua moglie abbiamo scoperto quanto tu sei importante per lei e per i tuoi figli, ma abbiamo scoperto anche quanto sia importante lei per te, e allora io intanto c'è la foto del vostro matrimonio, che questo lei mi ha detto, non mi ha fatto ridere perché mi ha detto questo è il vero matrimonio. Sì. Perché è il vero matrimonio? Lo devi spiegare. Perché... No, il vero matrimonio non so il perché, sinceramente. Non riesco a capire quello che mi vuoi chiedere. E allora te lo faccio vedere perché... Ecco, scusa amore. Allora, sì. Noi in 13 anni non ci siamo sposati una volta e in un mese ci siamo sposati tre volte. In Comune, a Sorrento e alle Maldive. Abbiamo fatto il matrimonio dei sogni, il matrimonio alla Beautiful. Alla Beautiful. È stata un'esperienza fantastica che, soprattutto grazie a mia moglie, perché è riuscita ad organizzare un matrimonio ed un viaggio speciale che non potrò mai dimenticare. E quindi, amore ti amo e grazie di tutto. È una cosa bellissima. No, invece abbiamo parlato appunto di famiglia e dei tuoi figli. Allora mi viene di chiederti, tu, chi è uno dei tuoi idoli da bambino? È una banda che si fa sempre, però è curioso. Sì, 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 no. È normale. Purtroppo la mia risposta è quella che danno la maggior parte dei napoletani. I nostri idoli è sempre stato Maradona. Noi cresciamo con questa cosa che ti mettono in testa i nonni, i papà, gli amici di papà. E quindi io da piccolino il mio idolo è stato sempre Maradona. Maradona, ovviamente no, per come gioca, perché non ci posso avvicinare proprio. Molti non ci si possono avvicinare. Per le giocate che faceva e soprattutto per quello che ha fatto per tutta la città, che è riuscito a farla sognare per più di qualche anno. Senti, Dario D'Arrigo ti chiede, Alessandro, in caso di Serie B ti rasi la barba? Sì. Oh, quindi torni all'origine? Sì. Ma infatti io questo ti volevo chiedere, perché hai iniziato? Da cosa è nata la barba? Io sinceramente ho sempre avuto la barba, ma più per noia. Io prima mi facevo la barba tipo una volta ogni dieci giorni. Appena mi cresceva un pochino lunga come la tua, la accorciavo. Poi dopo pian piano ho avuto un aiuto, è uscito fuori la moda della barba. Allora a quel punto ho detto, non la toglie proprio più, già non c'avevo voglia. E poi perché piace molto a mia moglie, mia moglie impassisce per come mi sta la barba, in più mi piace anche a me e quindi non c'è motivo per toglierla. Senti, io allora, visto che parliamo di Serie B, volevo chiederti, la promozione in B con il Benevento, resti in questo momento la maggiore soddisfazione professionale che hai avuto? Sì, assolutamente. Assolutamente, perché Benevento per me è stata una casa, che ancora oggi lo è, perché abbiamo tanti amici, mia moglie torna spesso ogni volta che può a Benevento, quando magari io sono impegnato, sono in ritiro. Ed è la vittoria che sento più mia, sono stato lì tre anni e diciamo che a un certo punto io giocavo proprio da tifoso. Mi ero totalmente legato alla città e alla squadra, che mi interessava soltanto raggiungere quell'obiettivo che tutta la gente immaginava e sperava che arrivasse. E quando abbiamo vinto e vedere tutta quella gente felice, gente che piangeva, ma gente di 70 anni che piangeva, per me è stata una soddisfazione incredibile. Ce l'ho anche tatuata. Eh, bravo, infatti io questo vedo che... La data del Benevento. E infatti io volevo questo, mi ha lanciato un ottimo assist. Nel senso, io volevo parlare anche un po' da... Abbiamo parlato tanto di calcio, parliamo un po' di Marotta Uomo, del Marotta Uomo. Mi spieghi i tatuaggi, il significato dei tuoi tatuaggi? Io ho iniziato con i significati, poi pian piano ho cominciato a fare... Riempimento. Riempimento, bravo. Io comunque ho tante cose di significato, i nomi dei miei figli, i nomi di mia sorella, la mano di mia figlia, ho tatuato mia moglie sul braccio, tante cose che segnano momenti importanti della mia vita, che ogni tanto quando mi guardo allo specchio e mi vedo tutto colorato, mi fanno ricordare. Allora, momenti importanti nella tua vita, ce n'è uno in particolare che vorrei farti dare. È un video che ci ha inviato sempre il complice segreto e vorrei che la regia lo mandasse un secondo in onda, se fosse possibile. Via, eccolo qua. Guardi, sei fregato. nel senso che... a parte che in questo canale di mio è bellissimo, a me è un gusto bellissimo. A questo punto a me mi viene una curiosità, visto che questa è stata fatta una vacanza diversa rispetto al tradizionale, perché sei andato, come abbiamo visto, alle Maldive a Dubai. Abbiamo visto che sei un ottimo cantante, non è la prima volta... No, mi piace cantare. Lo sappiamo, sappiamo anche che tu sei un patito di Bob Marley, infatti noi l'abbiamo trovato, non l'abbiamo pubblicata, ma abbiamo anche una foto tua con i capelli a rasta, una modello... Sì, ma c'era 18 anni, ma adesso non neanche me li conoscerete. E quindi volevo chiederti se Bob Marley è stata la colonna sonora della tua luna di miele? No, non l'è stata. Avete in squadra, mentre lo sportivo cantate, avete delle playlist per gli allenamenti, per la partita? Sì, soprattutto i viaggianti, i viaggianti è il DJ della squadra. Sì, collega il telefono, mette le canzoni, però canzoni... Che tipo di canzoni? Devi svelarlo perché... No, le canzoni del momento, non c'è una particolare, però ogni tanto se mettessi anche Bob Marley faremo un salto di volta. Dovresti costringerlo. Alessandro, c'è Lori e Alfio che ti chiedono Alessandro, preferisci il Sels limone e sale o la carne di cavallo? E' qui in cui iniziamo a entrare un po' nell'essere catanesi. La carne di cavallo. La carne di cavallo. Ti piace? Invece Dario D'Arrigo... No, scusa, Dario D'Arrigo ti chiede la barba, se in caso di seribigia l'avevo letta, chiedo scusa. Antonio Navarria ti chiede perché non sei arrivato in Serie A, ne hai avuto la possibilità? No, io non ho mai giocato in Serie A, neanche nella panchina, ragazzi. Non mi piace dire che non ho mai avuto l'opportunità, mi piace più dire che magari per arrivare in Serie A bisognava essere più forti. E tu non ti ritieni così forte per la Serie A? No, io sono uno che crede molto nei propri mezzi, però crede anche nella realtà. Io mi sento un giocatore forte, un giocatore che sicuramente poteva fare una carriera diversa, ma se non l'ho fatta un motivo c'è. Però sono molto soddisfatto, orgoglioso, di quello che ho fatto e di quello che farò, perché comunque vincere dei campionati, far felice delle persone, vivere di calcio, era quello che sognavo e anche se l'ho fatto nelle categorie più basse posso ritenermi fortunato e soddisfatto. Anche e soprattutto perché ho un futuro da scrivere. Alessandro, ti chiede a proposito di un futuro da scrivere che speriamo tu scriverai per i colori rossazzurri. Vito Russo ti dice se domani dovessi segnare già hai pensato a un modo particolare di esultare? Non ce l'ho. Non è che ti porti la rametta? No, stiamo scherzando. No, impossibile. Io non ho un modo per esultare, non ho esultanze preparate, è tutto il momento. E invece Jacopo Rizzo ti chiede cosa pensi del Massimino, dell'atmosfera del Massimino e del pubblico del Massimino? Deva stare. Visto che tu l'hai vissuto sia da avversario che da giocatore anche se in Coppa Italia in Amicheo. No, è stimolante al massimo. Diciamo che la cosa che mi ha spinto anche a venire a giocare qua a Catania io avevo bisogno di giocare in uno stadio che ti regalasse emozioni. Dove fare un gol, fare una giocata, vincere la partita, ti fa tornare a casa e dire mamma mia, era bello oggi lo stadio. Allora guarda, Giuseppe Zizzo ti dice Ale ricordati di noi che ti seguiamo in tv, sei il nostro idolo, dedichaci un bel gol. C'è addirittura già chi si sta allargando tra i tifosi, ti ci devi abituare perché ripeto, l'amore per la squadra tra i tifosi catanesi è tantissimo ed è tipo Rosario Bertolo che ti dice domani sera speriamo in una bella doppietta e sotto la curva quindi ti chiede la doppietta e di farla sotto. Se il primo tempo lo giochi nella sud non segnare perché altrimenti ci rimangono male. Quindi Cristia Movita, ti leggo tutte queste domande Ale perché poi sai che tu dovrai sceglierne una e quella che sceglierai vincerà un biglietto per la prossima partita interna del Catania. Cristia Movita, questa è se segni come canti siamo a posto ti dice. Sono inguaiati. Se siamo inguaiati infatti era proprio questo il significato. Giuseppe Salemi, io leggo in diretta quindi ciao Alessandro qual è stata la prima reazione quando hai saputo dell'interesse del Catania? No, sinceramente l'avevo già avuta qualche anno in precedenza soltanto che non eravamo mai riusciti a fare questo matrimonio e appena appena mi ha chiamato il direttore del Monaco io ho subito accettato non è stato così difficile. Senti, a proposito io non so cosa prevede il tuo contratto però già ci sono dei tifosi che hanno dei bonus per te bonus a raggiungimento di determinati obiettivi uno di questi te lo offre Gianluca Brigante se fai 20 gol quest'anno ti porta a mangiare la carne di cavallo quindi con 20 gol una fetta di carne di cavallo non te la leva nessuno. Se faccio 20 gol la porto io a lui a mangiare. Enzo credo che verremo tutti se fai 20 gol Enzo buon consiglio ti dice Diablo domani spacca la rete Antonio scusatemi Antonio Ruscica ti chiede cos'è il Catania per te io direi ancora forse un po' presto per dirlo per il momento ti ho detto c'è un futuro da scrivere per il momento è la mia squadra e questa è una cosa bella già perché io una cosa che ho notato è che tu anche nel corso del ritiro estivo le prime partite amichevoli i tifosi ti hanno comunque subito accolto nonostante quel 10 giugno questa è stata una cosa più emozionante che è stata anche per te forse non ti aspettavi subito questo gol da parte dei tifosi no anzi io accettando la proposta del Catania già sapevo che i primi mesi forse non sarebbero stati così felici perché mi sarei trovato magari persone arrabbiate però fondamentalmente chi è arrabbiato non è normale ma forse sai cosa è la cosa che più mi ha fatto piacere che è stata una dimostrazione che smentisce ciò che si dice sempre dei tifosi del Catania cioè il tifoso del Catania comunque è un intenditore di calcio e uno sportivo perché è stato bello cioè bellissimo hanno dimenticato un gesto che era normale in quanto sei un professionista ma anche perché per chi mi capisce di calcio dovrebbe apprezzare quello che io ho fatto perché io quando gioco per una squadra do tutto me stesso e la squadra va davanti a qualsiasi obiettivo personale io gioco per la squadra per la maglia per la città per l'obiettivo finché dura senti Giuseppe Conti Alessandro ti chiede qual è il modulo dove ti trovi meglio in campo non è importanza se è un 4-2-3-1 un 4-3-3 è uguale no questi sono problemi che c'è l'allenatore io già ce ne ho tanti mica mi posso mettere a pensare che modulo giocare per me è uguale io gioco benissimo a due punte posso giocare a una punta vabbè poi basta ho una o due sono due Gabriele Ferri invece ti chiede a quanti anni hai iniziato a giocare a calcio avevo sei anni e ho fatto comunque tutto quello che hanno fatto tutti si gioca da piccoli si cresce pian piano e si sogna si cresce sognando di arrivare a vincere il mondiale invece poi devi accettare quello che ti offre la vita e devi cercare di dare sempre il massimo quando hai capito quando hai capito che questa potrebbe essere la tua professione una partita un momento un allenatore io volevo fare quello io ho sempre voluto fare quello questa domanda sarebbe più giusta da fare a mio padre lui sarebbe più preciso io ho sempre voluto fare quello solo ho pensato a quello e ancora oggi penso sempre a questo Giulio Buffardesi ti chiede qual è il gol più bello della tua carriera quella al Messina col colpo dello scorpione quello è più spettacolare sicuramente ha fatto un gol incredibile io ho una domanda che ti faccio per curiosità nella classifica nella top 10 di un giocatore di un attaccante come viene fatta questa top 10 in base all'importanza del gol o alla bellezza balistica della rete ma no ma assolutamente all'importanza del gol perché l'importanza dei gol ti fa ricordare quel momento per sempre perché quel gol può essere se è determinante per raggiungere un obiettivo è indimenticabile anche se la spingi soltanto sulla linea in porta non ha paragone sicuramente fare un gol bello fa piacere ma è più una cosa di televisione che fa piacere alla gente vedere un bel gesto tecnico però fare un gol di rovesciata alla Ronaldo una partita che fa la serie B che faresti l'unplay se tu riesci a fare un gol incredibile una partita che conta allora sei molto fortunato Giancarlo batteato ti mando un saluto da Berlino quindi siamo anche oltre i confini nazionali Cristian cuore rossazzurri ti chiede il coro che ti ha colpito di più quello che ti è piaciuto di più il coro il coro da stadio ma del Catania del Catania penso in generale forse nei tuoi confronti se c'è un coro sempre a Benevento o a Siena che ti avevano dedicato non negativo logicamente a Siena mi cantavano un coro molto simpatico forse sicuramente per la somiglianza che mi davano a Gesù mi cantavano segna sempre Gesù che è molto simpatico poi il più bello sarà quello che verrà senti Lori e Alfio ti chiedono portare la tua famiglia domani al Massimino? ho capito scusami ti chiedono Lori e Alfio se domani allo stadio portare la tua famiglia ma certo mia moglie è una tifosa sfegatata mia moglie non salta una partita prima quando non avevamo figli veniva anche in trasferta veniva in trasferta con il pullman con i tifosi mi piace proprio è veramente molto appassionata quindi domani al campo ci sarà lei e i miei figli sempre senti allora visto che hai parlato di famiglia di stadio di coesione noi abbiamo una cosa per te ancora è certo logico ormai se sarà una puntata alla Maria dei Filippi quindi se ci permetti apriamo la busta apriamo credo che sia il coro più bello sei forte papà credo che questo sia il coro più bello che un uomo in generale possa ricevere per i figli che bello sì la cosa bella che io sarò sempre forte per loro qualsiasi cosa farò ebbè questa è la cosa più importante quindi è perfetto qualsiasi cosa faccia per loro sarò sempre più forte infatti ti volevo proprio a casa cosa rappresenti per te cioè io parlando con te moglie è stato bellissimo che ammetto che il rapporto con i tuoi figli è meraviglioso cioè loro ti stravedono Lorenzo dice che tu sei il suo idolo è la cosa più bella credo me l'ha detto un paio di volte mi ha fatto commuovere sentire dire tuo figlio sei il mio idolo è sicuramente una cosa che farebbe piacere a tutti anche perché ti fa capire che perché è molto difficile fare il ruolo del padre e quando ti senti dire una cosa del genere significa che sei sulla strada giusta e sei d'esempio per i tuoi figli Ale noi siamo in chiusura la nostra mezz'ora è volata è stato molto piacevole anche per noi ma non avevamo dubbi perché il diavolo è già entrato nei nostri cuori domani ci auguriamo che possa giocare questo dipenderà questo dipenderà questo lo sono anch'io ci mancherebbe e che possa giocare e portarci altri tre punti ti ringrazio ancora per essere stato con noi grazie a voi e grazie a tutta la gente che ha scritto che ha perso qualche secondo per me sì ora dovrai perdere tu ancora qualche secondo perché arrivano tantissime domande ancora curiosità quindi ora con Alessandro perderemo altri cinque minuti fuori onda per scegliere quella più bella per Alessandro quella che l'ha inclusito di più io nel salutare Alessandro Marotta il nostro attaccante ricordo l'appuntamento di domani con Ultima Sport Match Day alle ore 18 sul canale 87 ma anche sul canale sulla pagina Facebook di Ultima Sport condurrà Simona Pulvirenti avremo tanti ospiti interessanti che ci faranno anche divertire e ridere e i collegamenti in diretta dallo Stadio Angelo Massimino grazie ancora ad Alessandro Marotta e a tutti coloro che ci hanno seguito buonanotte grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti